Musica Successo per la quinta edizione del concorso di danza Open Dance sul palco del Teatro Politeama di Catanzaro è andato in scena uno spettacolo con grande protagonista la danza. Bene 102 esibizioni nelle varie discipline e circa 30 le associazioni sportive affiliate XEN che si sono esibite nell'ambito della quinta edizione del concorso. La quinta edizione del concorso nazionale di danza Open Dance organizzato dal Centro Sportivo Educativo Nazionale che mi onoro di presiedere nell'ambito del Comitato Provinciale di Catanzaro assieme agli amici Sergio Servidone, Antonio Caira e Caterina Brizzi in collaborazione con la LC Music di Roma di Luca Catalano e con la supervisione del maestro Eriberto Verardi direttore del Balletto di Verona. Un grazie sia alla Fondazione Politeama che ci ha ospitato in questa splendida struttura e sia al Comune di Catanzaro nella persona del sindaco dottor Sergio Abramo e dell'assessore allo sport Gian Paolo Mungo che hanno fortemente voluto che questa manifestazione quest'anno fosse organizzata in questo splendido contesto. È stato un grande successo sia in termini pubblico con quasi 1500 persone che si sono accalcate in ogni ordine di posto nel Teatro Politeama in queste 10 ore di concorso, circa 30 le scuole partecipanti e 584 ballerini fisici che si sono esibite e si esibiranno nel corso della giornata. La passione, la tecnica ed il talento dei ballerini provenienti da tutta la Calabria sono stati valutati da un autorevole giuria, un direttore di gara, Gianni Stellato, presieduta da Eriberto Verardi, direttore dell'Accademia del Balletto di Verona e composta da Sabatino Deustacchio, Andreina Caracciolo, Alex Meghi De Pascalis ed Ilaria Ibrisevic, coreografi e ballerini professionisti. L'open dance è da sempre un'occasione per farsi notare. La competizione è servita anche come audizione per la partecipazione ad un grande evento che si svolgerà a Roma e che sarà trasmesso su Rete Mediaset ed inoltre durante la manifestazione sono state messe in palio diverse borse di studio per il Balletto di Verona e per la partecipazione al Working Dance 2017. Ho visto una grande crescita dal punto di vista qualitativo e soprattutto quest'anno, in questa stupenda cornice del Teatro Politeama, ha acquisito qualcosa ancora in più che sta dando sempre più importanza. Io dal mio punto di vista faccio il presidente di giuria nel terzo anno e ho portato le borse di studio per quanto riguarda il Balletto di Verona, che è la mia scuola con la mia compagnia junior. Quindi auguro a tutti quanti un grandissimo successo e un proseguimento per questo concorso. Grazie a tutti.